La proposta della Commissione 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 La cosa più clamorosa io la trovo la maggioranza che vota contro se stessa. Allora aspetta, a proposito di questo, siccome abbiamo un esponente importante della maggioranza del senatore Scuria, chiediamo a lui, oggi tra i tanti commenti ovviamente di questo voto ce n'è uno particolarmente tagliente sul Repubblica di Andrea Bonanni che scrive, vado a pescare alcune delle cose scritte, ieri è andato in scena il plateale fallimento dell'attuale classe politica italiana, è stato un cortocircuito collettivo e poi scrive ancora questa astensione di massa assomiglia tanto ad un'amnesia collettiva, la risposta purtroppo perché è un'amnesia collettiva dice siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale importante come quello delle europee, nessuno dei partiti italiani né quelli al governo né quelli all'opposizione se l'è sentita di spiegare agli elettori le ragioni pur validissime delle proprie scelte. Poi abbiamo sentito nella copertina, avevamo visto Giorgia Meloni quando in Parlamento appunto ha spiegato, spiegava il sì dell'Italia al patto, che è successo? Allora intanto buongiorno a tutti, penso la ricostruzione che è stata fatta sia quanto mai opportuna e giusta, sappiamo come funzionano gli organismi europei, quando si siamo trovati in Consiglio dove serve l'unanimità, l'Italia pur avendo fatto fare dei passi in avanti importanti e questo era il motivo per cui Giorgia Meloni e il governo erano soddisfatti perché rispetto a dove si era partiti nel patto di stabilità, grazie all'intervento del governo italiano, passi in avanti sono stati fatti, però non erano sufficienti come appunto abbiamo dimostrato ieri, ma non si poteva bloccare l'Unione Europea solo e soltanto per volere italiano, questo è anche un senso di responsabilità governativa e questo è l'aspetto del governo. Poi ieri c'era il Parlamento, però c'è le persone, gli eletti dal popolo, direttamente dai cittadini che quindi assumono anche responsabilità diverse e se questo si manifesta è perché quel patto di stabilità pur avendo fatto passi in avanti non sono sufficienti perché ci lega, come si diceva prima, a tutta una serie di responsabilità che al momento non penso io per primo che noi siamo dovuti, siamo insomma nelle condizioni di poter sostenere, non è surreale solo nei confronti del governo perché lì c'è un commissario europeo che per quanto rappresenta il nostro paese comunque è targato Partito Democratico, quindi insomma anche quello che il commissario europeo ha fatto evidentemente, insomma anche i suoi stessi rappresentanti all'interno del Parlamento europeo non lo hanno ritenuto sufficiente, quindi c'è stato un sistema Italia, questo possiamo dire con sarcasmo o meno, che si è reso conto che comunque questo patto di stabilità non fa assolutamente il bene del nostro paese. Posso farle però una domanda, è vero che adesso l'8 e il 9 giugno si vota, quindi diciamo si rinnova l'intero Europarlamento e tutti insomma gli organi di governance europei, però se un paese, anche un torto collo, la vogliamo dire così, si firma per quella famosa unanimità un nuovo patto di stabilità, poi rispetto al voto di ieri non perdiamo di credibilità come Italia, adesso non parlo solo del governo, come paese Italia. Guardi, io ho fatto il parlamentare europeo, quindi conosco bene i meccanismi di Bruxelles, se noi avessimo bisogno di un organismo solo, avremmo solo un organismo, cioè il fatto che esistano più, tra virgolette, camere, ovviamente non stiamo parlando come del nostro Parlamento, ma insomma il Parlamento europeo, il Consiglio e poi la Commissione come organo esecutivo, è perché ci sono diversi livelli in cui il consenso si forma e quindi anche una posizione politica si estende. Ripeto, quello principale come forma di rappresentanza è il Parlamento, perché è l'organo eletto dai cittadini, quindi su questo, se noi vogliamo, come vogliamo, mettere in campo più organismi all'interno dell'Unione Europea, questi organismi devono essere anche liberi di poter esercitare la propria volontà, altrimenti, come dire, possiamo farne a meno di qualcuno. Sentiamo l'onorevole Filippo Scerra, a cui do il buongiorno del Movimento 5 Stelle, voi vi avete votato diciamo in maniera più netta contro, vedevo che il vostro leader Conte dice insomma con questo patto torna all'austerità in Europa. Buongiorno a tutti intanto, sì, ieri si è scritta una brutta pagina nella storia del nostro Paese, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, perché Giorgia Meloni, ricordiamo, quando è arrivato al governo ha detto che la pacchia sarebbe finita per l'Europa, invece ieri l'Europa ci ha detto che la pacchia è finita per l'Italia. Che cosa si è sottoscritto ieri? Un patto di stabilità che costringerà il nostro Paese veramente a manovre lacrime e sangue, ciò significa che nei prossimi sette anni, se si accetterà una traiettoria di rientro di sette anni, ogni anno... Siamo spalmata su sette anni, sì. Può essere o di quattro o di sette anni, il governo vedrà quello che accetterà e ogni anno noi dovremmo ridurre le nostre spese o aumentare le tasse di 12-13 miliardi di euro, stiamo parlando di manovre lacrime e sangue. E la responsabilità, non sono d'accordo con quello che diceva il collega, c'è stata una proposta iniziale della Commissione Europea, che era una proposta, diciamo, non perfetta, mediocre, ma che poteva essere per certi versi accettabile. Poi è intervenuta nella trattativa Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti e hanno nettamente peggiorato la trattativa. Tanto è vero che si sono fatti imporre dalla Germania delle clausole capestro di rientro del debito e del deficit, che hanno nettamente peggiorato il testo. Ora, dal punto di vista politico, cosa è successo ieri? Che c'è stata una stensione con la quale loro sperano, in vista dell'Europea, di nascondere il disastro del duo Meloni-Giorgetti. Ma il disastro c'è tutto. Il fatto che voi abbiate sfiduciato il vostro Ministro dell'Economia e abbiate sfiduciato il vostro Presidente del Consiglio non vi nasconde dalle vostre responsabilità. L'Europa, dottor Pancani, nel 2020 eravamo arrivati a una situazione che era cambiato il paradigma. Noi siamo riusciti a convincere gli altri Stati membri dell'Europa, anche quelli più rinutanti. Però non era semplice fare quello che ha fatto Giuseppe Pagno. Non era semplice, non è colpa di questo governo e basta il nostro debito. Il suo governo, forse, è una tattativa punta. Noi dobbiamo pure sentire gli altri ossi. Siamo riusciti a condividere gli sforzi fra i vari Stati membri in maniera tale che un Paese, anche indebitato come l'Italia, fosse aiutato dagli altri Paesi. Ora, la Meloni, quando dice che va in Europa e fa finire la pacchia, è ovvio che doveva insistere perché alcuni parametri fossero eliminati. Il 3,60% dovevano essere dei parametri da rivedere assolutamente. La golden rule, cioè la possibilità di inserire, la possibilità di investimenti pubblici produttivi, di scorporarli dal calcolo del deficit, doveva essere inserita. Non ha fatto nulla, Giorgio Meloni, di tutto questo. Allora, stop, stop, scusatemi. Ciò significa austerità. Ma lei, scusate, io devo andare in pubblicità. Ma riconosce i conti pubblici? Claudia, rimandiamo a dopo le repliche. Devo andare in pubblicità. Intanto voglio salutare Antonio Rapisante, il direttore di Segurità, il bentornato. E saluto il bentornato a Matteo Golaninno, presidente esecutivo del gruppo Piaggio. Buongiorno, grazie. Perché così sentiamo anche da parte di chi fa impresa, non soltanto in questo Paese, insomma, come stanno le cose che... Con piacere. Che riflessione ha. Andiamo in pubblicità e ripartiamo sia dalla questione di ieri in Europa, sia dal DEF dopo la pubblicità. Perché poi, alla fine, chi deve fare le capriole con i conti pubblici è lui, Giancarlo Giorgetti, il ministro dei numeri. L'ultimo documento di economia e finanza, in verità ne ha rivelati pochi, si è limitata a un quadro tendenziale, tralasciando quello programmatico, che è però la vera essenza strategica di ogni governo. Per questo si è parlato di DEF quasi in bianco, incompleto, parziale, concordato con Bruxelles, certo. Ma non si può ignorare che il deficit, il prefisso DEF casuale, rivisso al 7,4%, il più alto d'Europa ma sostenibile, secondo il ministro, rende la procedura di infrazione più che una probabilità, calcolata male, evidentemente. Così come è tutto da capire il calcolo che ha portato la maggioranza di governo a Strasburgo ad astenersi nell'approvazione del nuovo patto di stabilità. Anche PD e Italia Viva hanno fatto lo stesso, 5 Stelle invece contrari. Patto celebrato come una vittoria solo qualche mese fa, soprattutto da Giorgetti e da Giorgia Meloni. Chi ha sbagliato? Il peso del super bonus è cinque volte superiore al previsto, che ha attraversato tre governi, Conte, Draghi, Meloni e tre bilanci statali è ormai conclamato. Lo dovrebbe essere anche la spinta data alla crescita di economia e occupazione, le due cose teoricamente un po' si compensano, ma la seconda viene ignorata, contraddizioni, come quella di legare l'andamento futuro positivo del PIL al volano del piano di ripresa, che invece prevede ancora molte incognite e vari ritardi sull'attuazione. Alla vigilia del voto non solo europeo, nell'impossibilità di contabilizzare nel fatidico DEF le cifre utili a confermare le promesse elettorali o a farne di nuove, le sviste sull'entità della spesa per il super bonus, che inciderà sul debito fino al 2026, sono state imputate al ragioniere generale dello Stato, Mazzotta, che da più parti viene dato in uscita a metà mandato, fatto mai accaduto. Come se il Ministero dell'Economia non disponesse di altri tecnici, matematici e funzionari in grado di prevenire gli errori di calcolo prima, quando si decidono le manovre, e non dopo la loro pubblicazione. L'Italia è un paese solido, lo testimoniano i giudizi delle agenzie di rating, indipendenti, e che certo non tifano per questo governo, ha detto Giorgetti, che si dice orgoglioso delle sue scelte impopolari e rivendica il traguardo raggiunto della credibilità del paese. Eppure, nelle audizioni parlamentari sul DEF non c'è istituzione che non abbia rappresentato qualche dubbio sulla sostenibilità del bilancio. La Corte dei Conti ha ridimensionato la stima degli incassi delle privatizzazioni e ha lanciato un allarme sul preoccupante declino della sanità pubblica. Per l'Istat le incertezze degli scenari internazionali pesano sulla crescita, che il governo ha fissato per il 2024 al punto tondo rispetto allo 0,6% della Banca d'Italia. Con un salto, o meglio con una capriola, siamo tornati indietro all'anno zero, anzi, zero virgola. Allora, a proposito di Giorgetti, di cui parlava in questo servizio Marco Fratini, chiedo ad Antonio Rapisato, al direttore segretario. Si possono fare i complimenti al servizio? Grazie, li facciamo a Marco Fratini, che è sempre molto brillante. Allora, Giorgetti è sfiduciato rispetto alla posizione assunta ieri nell'Europarlamento? Io sinceramente non credo, Marco. Lui l'aveva di fatto annunciata questa stensione. insomma, e poi soprattutto le critiche a questa formula, a questo patto di stabilità sono annose. Ricordiamo che è una struttura che il governo ha ereditato e in quel mare magnum è riuscita a portare a casa alcuni risultati. Ricordiamo che qui a chi ci ascolta in quella stagione particolare si parlava di ratifica della riforma del MES e l'Italia, il Parlamento italiano poi ha scelto di non ratificare e quindi quello era un messaggio molto chiaro e sul patto di stabilità lo ricordava prima sia Claudia che non ne vuole scuria era di fatto impossibile a quel punto diciamo boicottare l'intera struttura europea. Poi è chiaro che questo governo lo sta dimostrando sia Parlamento che il governo quindi maggioranza di governo che esecutivo sta un po' spiegando come si comporterà da adesso in Europa perché fino adesso abbiamo avuto governi togliendo un po' la parentesi del giallo verde e poi c'è stato il grande diciamo problema del covid che ha un po' cambiato i parametri e ha cambiato anche la commissione ursola mettiamola così comunque rivolgimento erano abituati a dei governi molto diciamo accondiscendenti rispetto al cielo che è dell'Europa adesso un po' si cambia e si entra in un rapporto dialettico da qui anche poi il progetto del trilogo è questo non è così chiaro non è così diciamo dritta la strada e il governo cerca di interloquire dicendo da qui campagna elettorale europea ricordiamo che venerdì parte questa tre giorni dove si ragionerà immagino si ragionerà pure di questo eppure sul patto di stabilità io sono commento che sia la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia questo è il riferimento da cui ci si attende che Giorgia Meloni scioglierà la riserva anche per la candidatura e questo credo che sia solo una stazione appunto programmatica di quello che l'esecutivo italiano credo dovrebbe riuscire a fare in Europa voglio farti una domanda e poi vado da Matteo Colaninno la domanda è questa ma perché in fondo legittimamente il centrodestra italiano che diciamo ripete continuamente noi vorremmo in Europa diciamo riprodurre la stessa maggioranza che c'è in Italia diciamo si attende che cambiando cambiando gli equilibri in Europa poi anche questo patto di stabilità si ridiscuterà c'è questo in sottofondo così ci capiamo non è solo un discorso di maggioranza politica ricordiamo che sul patto di stabilità anche la Spagna ha avuto diciamo le nostre stesse posizioni cioè attenzione a considerare diciamo l'equivalenza di maggioranza politica e maggioranza politica in Europa cambia e su certi argomenti togliendo appunto la riforma del patto di stabilità dove si è riproposto diciamo il cosiddetto asse franco tedesco ma su altri temi anche quella Francia di Macron si è ragionato in termini diciamo interessanti sulla competitività perché la Francia non è che c'è i conti così apposti esatto quindi alla fine è un mal comune ed è stato ricordato prima il servizio perdonami e chiudo come al solito sono i paesi frugali la Germania socialista in primis che sono stati l'elemento perturbante in questa scusami sono proprio i paesi frugali alleati i fratelli d'Italia la Germania non è alleata non mi sembra che è la Germania perdonami Germania Austria allora posto intanto vi faccio vedere le immagini in diretta dalla camera perché c'è la discussione appunto sul DEF cosa analogo anche in Senato no Scuria oggi credo che il Senato poi all'ora di pranzo un po' dopo l'ora di pranzo dovrebbe votare e credo analogamente la camera a proposito di DEF ecco queste sono immagini di voi in diretta in questo momento sta parlando l'onorevole grippo di azione allora intanto l'Europa a proposito della commissione europea la commissione europea ricorda questa è di ieri questa notizia che l'Italia continua a far fronte alle vulnerabilità attenzione vulnerabilità legate all'elevato debito pubblico abbinato a consistenti deficit di bilancio e ad una debole crescita della produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e di alcune debolezze residue nel settore finanziario queste sono diciamo dichiarazioni ufficiali che arrivano dalla commissione europea allora sentiamo Matteo Golanino vediamo le imprese in tutto questo contesto intanto lei cosa pensa del patto di stabilità del nuovo patto di stabilità ma il patto di stabilità questa nuova governance europea non nasce dal nulla nasce dal fatto che negli ultimi dieci anni l'unione europea e la commissione hanno cambiato fortemente una traiettoria cioè si è passati da un'Europa di austerità negli anni 2010 2011 cioè se ci ricordiamo le crisi dei debiti sovrani l'Europa dell'austerità siamo passati nel 2020 ad affrontare il Covid dove finalmente l'Europa si è avvicinata ai cittadini avvicinata agli stati ha rotto dei tabù cioè ha fatto del debito pubblico europeo e comune con dei programmi straordinari per fronteggiare il Covid per uscire dalla pandemia e naturalmente questo tipo di sentiero doveva avere una fine cioè noi era inimmaginabile pensare che l'Europa potesse proseguire con lo spartito del 2020 21 e 22 però nel frattempo mi scusi sono arrivate due guerre tanto per ricordare il contesto che lei conosce benissimo arrivo al ragionamento finale che porta lì quindi è naturale che saltando da una parte all'altra dall'austerità alla pandemia dove addirittura è stato messo in campo un programma nuovo il Next Generation EU da cui discende il PNR cioè risorse rilevantissimi che dall'Europa arrivano agli stati ai cittadini italiani ed europei ora l'Europa sta in una condizione ancora più complessa per così dire perché le imprese sono state sottoposte a degli obiettivi rilevantissimi prendiamone uno la cosiddetta transizione ecologica oltre che la transizione digitale quant'altro per arrivare lì le imprese hanno bisogno di investimenti ingentissimi investimenti privati ma anche pubblici e non è finita siamo in una condizione abbiamo sentito diciamo le dichiarazioni del candidato repubblicano agli Stati Uniti che cosa ha detto sulla Nato ci sono due guerre c'è uno scarico di tensione nel Mediterraneo micidiale il canale di Suez con gli attacchi agli uti quindi è facile che l'Europa prossimamente possa anche cambiare l'agenda e le priorità dell'agenda economica cioè le prospettive che prima venivano date cioè quei miliardi centinaia di miliardi di euro messi sulla transizione verde non è detto che rimangano lì con le imprese in mezzo al guado e che possono andare anche su capitoli come la difesa la difesa comune la lotta contro le dipendenze strategiche energia materie prime gas energia e quant'altro quindi e chiudo il ragionamento questo patto è relativo è piccolo rispetto alle ambizioni che le imprese e i cittadini europei sono chiamati a dover fare naturalmente era ovvio che dall'Europa del 2020 si dovesse cambiare che i conti pubblici cioè lei dice siamo però ancora in un periodo di transizione per le scelte europee e se diciamo il mondo va avanti in questa direzione come andrà l'Europa deve dotarsi di una struttura finanziaria diversa cioè questa cosa qui del patto è piccola è irrilevante rispetto alle sfide che abbiamo di fronte possiamo anche definirlo quasi anacronistico o no o è troppo spingersi no forse diciamo è molto ristretta in termini di strategia di visione globale diciamo la visione chiama altro lei ricordava un po' anche quella che è la partita che ha ricordato anche Mario Draghi recentemente tra l'Europa e dei grandi competitor che sono Stati Uniti e Cina poco fa Pechino ha replicato all'Europa accusandola di protezionismo dopo che appunto Bruxelles ha avviato un'indagine sugli appalti pubblici cinesi di dispositivi medici tanto per avere concretezza di quello di cui si parla viene a confermare il ragionamento solo per parlare di Europa ambizione imprese e Stati Uniti servono 500 miliardi di dollari all'anno solo per mettere in campo risorse per la transizione ecologica e verde quindi per una migliore qualità della vita rispetto a quello che già stanno facendo gli Stati Uniti d'America è chiaro che con questo tipo di approccio finanziario non si va molto in là fatemi sì poi devo richiedere quello che dice Matteo Colaninno mi sembra poi Scuria mi può correggere esattamente quello che chiede penso il governo italiano quando la griglia che viene fatta poi bisogna però fare delle alleanze perché le richieste vadano in quella direzione dal punto di vista macro mettiamola così quello che dice la regola Colaninno lo chiamo ancora così il presidente Colaninno è esattamente la critica che ha fatto Giorgio Meloni a questo patto di stabilità cioè l'Europa ci chiede di investire nelle transizioni l'Europa oggi si chiede anche di tornare a essere un soggetto geopolitico ce lo auguriamo è un fatto necessario non è una scelta è una necessità per esistere ma l'Europa non dota gli stati di quegli strumenti debito comune quello che Mario Draghi chiama il debito buono è una formula che quasi quasi non viene più pronunciata questo è il tema oggi anche il governatore di Banca Italia Panetta ieri ha parlato dell'inevitabilità degli euro bond per esempio anche lì Andrea e mi taccio chi sono gli avversari di questa formula chi sono? sempre i paesi frugali e quello è il problema però scusate rapidamente perché poi devo tornare da studio tutto bene tutto giusto visione eccetera il problema è che noi abbiamo un bilancio un debito come ce l'abbiamo una spesa corrente che ha camminato in maniera e sta camminando ancora sì cioè le riforme che il PNRR prevedeva e anzi dava come prioritarie per il cambio di passo famoso del sistema Italia non le abbiamo fatte allora perché la giustizia non abbiamo fatto niente sulla pubblica amministrazione si è fatto pochissimo sulla semplificazione anche sulla competitività non ne parliamo sulla concorrenza non ne parliamo allora questo ci sta tu dici ci sono però delle cose che dobbiamo risolvere noi al di là delle regole europee la visione è correttissima tutto giusto ma noi i nostri compitini a casa non li stiamo facendo allora in questo coinvolgo ricoinvolgo il senatore Scuria per chiederle anche una cosa detto che appunto vedremo quale sarà la nuova Europa così sgombriamo il campo da legittime aspirazioni di ognuno ma se poi queste regole del patto di stabilità con i limiti a cui si accennava rimangono dove li troviamo quanto si parla di qualcosa 10, 14, 15 miliardi all'anno per la traiettoria famosa come si dice sul deficit e debito in più dobbiamo rendere strutturale credo il taglio alcune fiscale la riduzione delle tasse insomma quello che è nel programma di governo come facciamo? Allora guardi io penso che non si possa escludere in maniera totale l'orizzonte di quello che sarà la nuova Europa in realtà perché da lì discende tanto se non tutto ma comunque in queste materie molto moltissimo e quindi le nuove politiche europee determineranno anche quello che noi saremo in grado di poter fare mi spiego in una Europa che magari vedremo anche allargarsi ulteriormente a 30 32 stati è ovvio che queste regole politiche non tanto e non solo non reggono più economiche e finanziarie non possono reggere più e quindi l'Europa dovrà per forza mi auguro occuparsi delle macro cose dei macro sistemi di difesa di politica estera di economia e magari evitare di entrare nel fatto di come dobbiamo restaurare la casa green o come deve essere l'automobile eccetera eccetera quindi su questo ha ragione chi dice che noi dobbiamo anche fare i nostri compiti a casa ma questo è tutto scritto ma li stiamo facendo questi compiti a casa sì perché l'unica forse in esattezza del bellissimo servizio che avete mandato è che sul PNRR ne abbiamo dibattuto ieri in Senato siamo in regola e cioè l'Europa non paga fatture su obiettivi che non vengono raggiunti e noi siamo non solo perfettamente in regola con gli obiettivi ma li stiamo spendendo perché credo di aver capito che il vero problema è che non riusciamo a spendere i soldi che già l'Europa ci ha dato li stiamo spendendo e li stiamo ovviamente non a caso abbiamo revisionato in accordo con la Commissione Europea il PNRR proprio per il raggiungimento degli obiettivi affinché noi possiamo spendere tutti i 190 e passa miliardi che abbiamo a disposizione quindi abbiamo un po' spostato in avanti alcuni obiettivi che sarebbero stati irraggiungibili in cui il collega non me ne vorrà ha scritto questo PNRR pensando veramente di sognare la luna con criteri obiettivi strumenti impossibili ma lei la data la sosterebbe come chiede Giorgetti oltre il 2026 guardi lo sa perché io adesso non vorrei parlare di questo perché sennò si dà già l'idea che noi gli obiettivi non li realizziamo no no un suo parere personale sì sì no il mio parere è che noi lavoriamo per il 2026 per il 2026 poi vediamo poi penso che sia interesse di tutti perché spero che non ci sia nessuno anche all'opposizione che rima contro contro il PNRR nel senso non il raggiungimento degli obiettivi poi penso che se stiamo per arrivare e manca qualche dettaglio o qualche situazione che può essere fatta meglio magari saremo tutti d'accordo a chiedere uno spostamento in avanti però questo si fa questo si sta facendo noi abbiamo siamo oltre i primi in Europa a spendere i soldi del PNRR arrivo subito una percentuale di realizzazione del 33% il resto d'Europa sta al 18% cioè anche queste cifre ogni tanto raccontiamole perché fa bene sapere che quello che si sta facendo in Italia è quanto di meglio si sta facendo in tutta Europa allora pubblicità poi riparto c'era una domanda da Sherra che credo ha inarretrato da dire diverse cose ci vediamo tra poco allora facciamo così rapidissima domanda di Claudia Fusani rapidissima che devo andare dall'onore PNRR nonostante tutto le previsioni sono 0,9 0,8 1,1 0,16 Banca Italia no ma per i prossimi tre anni quindi fino al 26 non mi torna c'è qualcosa che non mi torna sentiamo la risposta e poi intanto diciamo c'è una crescita perché siamo abituati in questo paese siamo abituati anche a non crescere c'è una crescita anche maggiore rispetto ad altri paesi europei poi secondo me una volta che il PNRR raggiungerà i suoi obiettivi questo sarà un volano successivamente per poter far crescere ulteriormente il paese ma questo è e io sono anche contento che ci sia perché questo segno positivo non era così scontato è frutto anche delle politiche messe in campo da questo governo ripeto non scontato Scerra no intanto mi veniva in mente da dove siamo partiti stamattina sul patto di stabilità che in fondo pur se avete votato diversamente ieri allora al Parlamento ma in fondo entrambi volete che cambi di questo patto di stabilità no però la differenza è notevole noi siamo stati contrari sin dall'inizio tra l'altro abbiamo fatto tutta una serie di mozioni in Parlamento siamo stati praticamente gli unici abbiamo portato delle mozioni in Parlamento perché in Parlamento Giorgetti non ne voleva neanche parlare di una riforma che condizionerà il futuro del nostro paese però è giusto che loro si prendano le loro responsabilità se Giorgetti e Meloni sottoscrivono il patto di stabilità adesso il senatore dice vediamo di cambiarlo alla prossima legislatura non è semplice che tu ricambi un patto di stabilità con 27 paesi che te lo devono sottoscrivere di nuovo prendetevi le responsabilità di un fallimento che porterà il paese a manovre lacrime e sangue questo è il punto noi paghiamo l'autorevolezza la mancanza di autorevolezza noi paghiamo la mancanza di autorevolezza di Giorgia Meloni di questo governo si parlava prima di competizione a livello globale con la Cina o con gli Stati Uniti in America gli Stati Uniti in America l'Inflation Reduction Act cioè quella serie di investimenti per la transizione ecologica 500-600 miliardi di euro sapete chi ci è andata a trattare con gli Stati Uniti ci è andata la Presidente della Commissione Europea i francesi e i tedeschi dove era Giorgetti non si sa tant'è vero che le aziende italiane rischiano di pagare quella competizione là perché la Germania ha una capacità fiscale superare rispetto alla nostra e ce l'ha allo stesso modo pure la Francia e noi con una semplice flessibilità sugli aiuti di Stato rischiamo di pagare le nostre aziende rischiano di pagare sul DEF ci sono dei fondamentali intanto non c'è la parte programmatica cioè noi non stiamo il governo non ci sta dicendo se confermerà o meno la manovra dell'anno scorso se ci sono o meno i 20 miliardi del cuneo fiscale eccetera eccetera in questo momento non lo sappiamo l'ha detto Giorgetti in conferenza stampa ma le risorse non sappiamo da dove le troveranno aumenteranno le tasse chi lo sa i fondamentali economici di questo paese una crescita da zero virgola siamo praticamente quasi in stagnazione fermi i poveri assoluti sono cresciuti e sono 5,7 milioni 12 mesi consecutivi di calo della produzione industriale ci sono 2 milioni di famiglie che rischiano di non pagare i mutui si è fatto pochissimo nel 2023 contro l'inflazione quella da prodotti alimentari che è quella che interessa maggiormente i cittadini ci sono tutta una serie di fondamentali ma lei boccia senza appello ci sono tutta una serie di fondamentali negativi sui quali il governo si deve prendere le responsabilità di un disastro economico che gli italiani stanno facendo non lo descrivono nel paese del Bengodi purtroppo gli italiani ogni giorno vanno a fare la spesa e lo vedono però mi permetta non siamo nel mondo dei sogni e va bene non cito i giornali mondiali che parlano del governo Meloni addirittura invidiabile rispetto a quello che la Gran Bretagna non saprebbe fare ma poi cito una cosa molto semplice mentre lei parla di questi italiani disperati e sicuramente dobbiamo lavorare tanto e molto di più nel frattempo le ricordo che nelle elezioni che abbiamo fatto dalle elezioni politiche a ieri il centrodestra vince sempre quindi un minimo penso di consenso di credibilità rispetto a quello che dice no non va bene e su che si misura il consenso ma scusi quando intanto le misuriamo a giugno guardi è facile intanto le misuriamo a giugno intanto le misuriamo a giugno intanto le misuriamo a giugno dopodiché quando voi per qualche decina di voti avete vinto in Sardegna avete detto che il vento cambiava e adesso invece non va più bene quando le liste di centrodestra hanno preso ben comprendendo il disastro di questo governo noi siamo contenti se lo interpretano così siamo contentissimi guarda le vinciano posso fare non lo manca un mese la vediamo da un mese si deve fare un mese una domanda proprio su questo perché è interessante quello che lei ha detto allora scorporiamo il dato del momento 5 stelle in Basilicata perché in Basilicata c'è stata al di là della vittoria diciamo di Bardi però una proposta diciamo programmatica di Bardi è stata quella di lottare lotta all'inflazione con il bonus sul gas alcuni interventi che non sono stati assistenzialisti ma hanno cercato di contrapporsi all'inflazione dando sollievo al ceto medio considerando le risorse che la Basilicata ha soprattutto il petrolio perché in Basilicata dove il momento 5 stelle aveva percentuali bulgari oltre il 20% nel voto territoriale perché le regioni sono un voto territoriale lei come se lo spiega questo crollo dell'Italia soffera sono due elezioni diverse quelle nazionali e quelle territoriali il momento 5 stelle io l'ammetto è da due anni che noi stiamo lavorando per radicarci territorialmente da quando Giuseppe Conte è diventato presidente noi abbiamo modificato la nostra organizzazione abbiamo eletto dei referenti territoriali dei referenti provinciali e siamo alla fine per esempio le dico in Sicilia il nostro gruppo territoriale nella mia città si è formato da qualche mese siamo nella fase finale guardate che strutturare aspettate scusatemi strutturare un partito dal punto di vista è cambiarlo perché noi prima eravamo un partito fluido eravamo diverso eravamo un movimento fluido che non aveva dei referenti territoriali dei referenti provinciali dei referenti regionali ora abbiamo deciso di cambiare assetto con questo cambiamento di assetto è ovvio e lo ammetto che non abbiamo la stessa capacità territoriale degli altri partiti perché abbiamo una conformazione completamente diversa anche le logiche con le quali gli altri partiti raccolgono i consensi sono completamente diverse dalle nostre tant'è vero permettetemi che quelle cose che sono successe nelle cronache dell'ultimo mese le cronache dell'ultimo mese che ci dicono che ci sono stati voto di scambio corruzione eccetera eccetera guarda caso non interessa il Movimento 5 Stelle perché noi candidiamo un certo tipo di persone quindi abbiamo un modo di fare politica a livello territoriale che è completamente diverso c'è una sticella altissima la domanda è onorevole voi avete promesso il reddito di cittadinanza perché alle politiche nel 2022 avete preso più questa è un'altra domanda rispetto alla domanda ma no ma è praticamente conseguenziale siamo due giornalisti che fanno la domanda sono prontissimo alle politiche allora alle regimali del 2019 avete preso tipo il 20 alle politiche del 2022 avete superato il 20 con una grande bandiera da vostro punto di vista alla politica del 2022 purtroppo non l'abbiamo superata il 20 vabbè eravate 19,8 insomma insomma reddito di cittadinanza ma lei lei sta identificando un numero con il reddito di cittadinanza sono due cose è un accostamento che non ha nessun senso in base a quale criterio lei dice che quello è stato il reddito di cittadinanza è stata una serie di politiche da parte di questo governo è un programma affidabile credibile di una forza politica come il Movimento 5 Stelle che ha realizzato l'85% del suo programma nel 2018 a differenza delle altre forze ma non se ne so a quattro gli italiani però ma perché avete perso un bong perché è arrivato anche Paolo Sottocolona questi stanno smendendo tutto quello che hanno detto in campagna elettorale non c'è una cosa che Giorgio Meloni sta mantenendo e vengono a parlare con noi che abbiamo mantenuto tutto il problema elettorale del mondo e si vede gli italiani sono scemi allora aspettiamo che il blocco navale che bloccano le navi e che non arrivano i migranti ne sono arrivati 158.000 ma di che stiamo parlando e invece sul resto sul resto no 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 se volete posso parlare tranquillamente della migrazione proprio perché penso che qualche risultato tutti i nostri si vede molto chiaramente diciamo che c'è un dato che è inoppugnabile che i nostri ospiti conoscono perfettamente anche chi ci segue che storicamente da quando è nato il Movimento 5 Stelle nelle elezioni regionali e anche in quelle europee diciamo non raccoglie consensi che raccoglie a livello nazionale quando ci sono le elezioni vogliamo dire questo lo sappiamo tutti ma questo è un altro discorso tanto per ribadire alcuni concetti non voglio fare l'avvocato di nessuno né tantomeno del Movimento 5 Stelle ma insomma per ricordare alcune cose alle politiche aveva preso quasi il 20 alle politiche del 2021 aveva preso quasi il 20 quindi per questo ricordavo quello è il voto ideologico che guarda l'affidabilità del partito sulle elezioni territoriali ci sono delle dinamiche che mi permette delle criticità ma sono contento del fatto che noi facciamo una selezione dei nostri candidati alle amministrative che è diversa rispettacolare di altri partiti è quello che è successo nell'ultimo messe da ragione al Movimento 5 Stelle posso dire se guardate i resti che ci sono stati che non hanno mai caratterizzato il Movimento 5 Stelle quindi va bene ottima selezione non riesco facciamo così lo rimando perché se no qui non ce l'ho fatta allora Paolo buongiorno io ho letto da qualche parte che c'è qualche miglioria in arrivo per il tempo per illudere chi chi fa ponte il 25 aprile miglioramenti per il 25 aprile mi sembra un po' azzardato diciamo che intanto non peggiora è già è un punto quello che si vede in prospettiva è un aumento delle temperature nel prossimo fine settimana e questo già è una notizia abbastanza buona come vedete di nuvole ce ne sono in giro sull'Italia sono irregolari non è che siamo romacentrici però questa mattina a Roma c'è stata la fine del mondo ha grandinato piogge adesso pieno sole quindi cambia anche molto vediamo il complesso delle 24 ore le piogge a parte il nord ovest con delle schiarite più ampie tornano delle piogge al nord al centro sono previste delle piogge qualche quantità già c'è stata questo è vero e tendono a essere più sul versante tirrenico medio basso versante tirrenico che su quello adriatico domani c'è una situazione con delle schiarite vedete in parte al nord qualcosa anche al centro ma molto poco la Sicilia le piogge sono in prevalenza anche dove dove ci fossero sono deboli quasi quasi totalmente qualche zona in blu si ritrova con precipitazioni moderate però nel complesso la giornata è certo molto incerta ma non con fenomeni forti questo l'ha detto poi la giornata di venerdì prende ancora quasi tutte le regioni con precipitazioni deboli vale a dire significa che è un tempo un po' incerto grigio un po' di apri e chiudi come diciamo qualche schiarita e venerdì io direi che qualche cambiamento nelle temperature si comincia a vedere allora grazie vado in pubblicità di Gran Carriera adesso torniamo sulle questioni di cui ci stavamo occupando e dobbiamo sentire Matteo Colanino però faccio una piccola incursione perché perché ci sono i ponti di primavera 25 aprile il prossimo primo maggio Confcommercio stima 16 milioni di partenze e 5,5 miliardi di spesa per questi ponti di primavera e quasi in onore dell'onorevole Scerra andiamo a vedere come si prepara la Sicilia per questi ponti di primavera a tra poco la Sicilia è tra le mete predilette da italiani e stranieri per le vacanze di primavera arte cultura gastronomia e clima quasi estivo la combo perfetta per una vacanza da sogno tra le mete italiane spiccano Catania e Palermo le due città siciliane sono fra le prime 15 destinazioni in compagnia di città come Madrid Parigi e Barcellona abbiamo scelto abbiamo scelto la Sicilia perché per festeggiare la nostra amica che compie gli anni e allora volevamo un posto incantevole per anni purtroppo è stata sempre solo ad associata agli eventi appunto alla mafia piuttosto che a tutto quello che riguarda il lato negativo in realtà è una risorsa per tutta l'Italia ma se prima la Sicilia attraeva un turismo cosiddetto di massa da qualche anno invece c'è un'evoluzione nell'isola arrivano turisti che ricercano qualità e lusso turismo d'elite si comincia a lavorare più sulla qualità quindi un turista più attento magari anche più esigente verso la qualità dei servizi un turista che approfondisce la propria conoscenza dell'isola anche diversificando i momenti di viaggio un turismo delle persone che comunque si documentano prima di venire sono delle persone che hanno magari un minimo studiato sanno già cosa vogliono andare a vedere e sicuramente sono più consapevoli ovviamente non tralasciamo vengono qui anche per mangiare le nostre specialità i nostri dolci la nostra cucina la storia della Sicilia è un esempio di integrazione umana bellissima dove le culture si fondono nel rispetto reciproco venite a vederla perché è una terra meravigliosa allora io prima dicevo un omaggio a Sherry un omaggio anche ad Antonio Rapisarda che è catanese va bene questo diciamo lo scenario della Sicilia che attende moltissimi italiani e stranieri per i ponti di primavera torno non mi dimentico le cose anzi facciamo così sentiamo così la domanda le faccio dopo perché è silente da un po' con la Ninno intanto l'Istat ha appena dato i numeri che riguardano il clima cosiddetto di fiducia di consumatori e imprese peggiora sia quello il clima di fiducia dei consumatori sia quello delle imprese insomma sono ovviamente indicatori generali che ci dicono delle cose da prendere sempre con le pinze però io volevo fare una domanda rispetto anche al DEF perché eravamo rimasti un po' lì oltre al patto di stabilità come si sta muovendo dal suo punto di vista questo governo ma dal punto di vista della prudenza finanziaria credo che sia corretto il sentiero intrapreso nel senso che lo spread a così bassi livelli è un dato di stabilità molto importante abbiamo delle grandezze sui parametri fondamentali della finanza pubblica che sono naturalmente da tenere sotto controllo perché noi deriviamo da sequenze dove la finanza pubblica ha espanso per fronteggiare i crolli di pille di produzione industriale degli anni 2000 e 2021 con delle misure che certamente da un lato hanno aiutato ad espandere l'economia quando eravamo a terra cioè quando eravamo nei meno 10 parlo del famoso super bonus ma naturalmente oggi diciamo queste tipi di misure necessitano di correzioni immediate e drastiche perché noi non possiamo lasciare che i conti pubblici vadano allo sbando per questo riporterebbe l'Italia sotto una lente pericolosissima non solo dal punto di vista finanziario e di austerity ma perché in un clima di quella natura le sfide esistenziali voglio sottolineare che hanno davanti le imprese perché sono sfide esistenziali verrebbero totalmente compromesse prima si parlava della sfida ecologica è una sfida esistenziale perché si stanno aprendo delle divergenze competitive spaventose enormi è giusto andare verso quella direzione perché i consumatori le giovani generazioni anche questioni etiche rispetto alle quali la qualità della vita deve essere migliorata ma credo di usare un termine non scorretto nel dire che la corsa un po' furente e ideologica degli ultimi anni ha messo le imprese in gravissima difficoltà perché stiamo andando verso delle tecnologie unidirezionali parlo dell'elettrico dove stiamo avvantaggiando delle potenze industriali molto lontane da noi dove stiamo mettendo l'industria della componentistica prima si parlava di auto in grande difficoltà e quindi sono sfide ineludibili perché avversarle significa mettersi fuori dai trend però c'è modo di affrontarle e siccome l'Europa necessita di mettere sul piatto quantità di risorse spaventose l'ordine di grandezza è quella dei next generation EU cioè miliardi di euro e d'altro canto le imprese devono a loro volta fare degli investimenti enormi cambiare completamente la propria concezione produttiva e nello stesso tempo abbandonare o non considerare per esempio quella che viene chiamata la neutralità tecnologica cioè raggiungere gli obiettivi di basse emissioni di inquinare di meno ma tenendo conto di tutte le tecnologie disponibili piuttosto che fare quello che l'Europa ci stava tentando di imporre cioè andiamo solo sull'elettrico credo che vada fatta con più intelligenza guardando anche agli interessi delle imprese europee e non dimenticando che queste sono sfide importanti detto questo la cornice di mantenere i conti pubblici sotto controllo senza andare nell'austerità è una cornice è una precondizione perché se gli spread ci tornano a 200 punti se le agenzie di reti incominciano a dare dei giudizi negativi noi buttiamo per aria tutto e questo non possiamo perdere quello che si è costruito dice lei perché ne abbiamo viste troppe la pandemia le guerre l'inflazione che stava al 10% ancora purtroppo la congiuntura internazionale i canali commerciali che sono sotto tiro la necessità di dare una struttura di autonomia strategica non dico di difesa comune ma insomma lì si va se ci mettiamo anche in tutto questo che noi usciamo da un sentiero di affidabilità finanziaria beh abbiamo fatto un mestiere sbagliato allora intanto c'è una battuta deliziosa io ogni tanto l'ho uscito la mattina di Fiorello Fiorello poco fa tornando a parlare del caso Scurati ha detto nel governo non tutti lo festeggiano però il 25 aprile ovviamente però ci sono prove di unione pari infatti che la Meloni abbia organizzato un picnic con Scurati no allora così Fiorello volevo chiedere all'onorevole Scerra siccome si citava la Basilicata lei ha spiegato bene qual è la posizione del Movimento 5 Stelle però per esempio a me ma non soltanto a me ha colpito molto che il primo candidato indicato dal Partito Democratico Chiorazzo che credo sia un imprenditore è stato il record di preferenze ma voi non l'avete voluto poi bisogna trovare un accordo anche con nel campo largo cosiddetto campo largo sì il record di preferenze ovviamente stiamo parlando di candidatura alla presidenza invece se è candidato poi non alla presidenza però non è questo il punto il punto è che territorio per territorio avreste vinto territorio per territorio bisogna valutare le personalità adatte che portano avanti i programmi che condivideremo con le altre forze politiche del campo progressista ma mi permetta il servizio sulla Sicilia mi ha ispirato su un altro danno economico questa proposta economica che vuole devastare il paese che è quella dell'autonomia differenziata e di un attacco sistematico da parte di questo governo nei confronti del sud se noi raccogliamo tutti gli spunti tutte le proposte di questo governo è evidente che c'è un accanimento nei confronti del sud nei confronti della Sicilia nei confronti di tutte le regioni del sud autonomia differenziata che vuole spaccare il paese in due e che sposterà delle risorse dal centro al nord la riduzione del fondo di perequazione infrastrutturale da 4 miliardi e mezzo a 800 milioni l'eliminazione del credito di imposta per il mezzogiorno ci sono tutta una serie di proposte che vanno in maniera evidente a deponizzare le regioni del sud e non ci rendiamo conto che il sud può essere volano di crescita per tutto il paese parlavamo di Europa nella competizione globale si parla di governance energetica a livello europeo si parla di stoccaggi comuni di gas si parla di fare squadra con tutte le altre regioni europee e qua loro ci stanno proponendo di avere delle governance energetiche regionali differenti da una regione all'altra questo significa minore competitività per il sistema paese loro vogliono ammazzare la competitività affido una replica una sorta di replica al suo conterraneo ad Antonio Rapisarda a proposito di autonomia differenziata questo non mi può dar ragione la Sicilia non mi può che dar ragione partiamo da questo a di là del caso della Sicilia che peraltro è una regione già che ha un O allora il ragionamento che mi piace fare quando volevo resce è questo ma i danni del regionalismo derivano dall'autonomia differenziata o già esistono anche questo è il punto i danni del regionalismo da dove derivano derivano da una cattiva riforma costituzionale fatta la nostra riforma costituzionale dal centro-sinistra all'epoca il ragionamento è questo al di là che poi si sta ragionando sui LEP che sono e lo dicono anche i governatori di centrodestra Occhiuto lo stesso Bardi sono diciamo l'assicurazione se vogliamo ma la garanzia perdonami 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 però la Premier Giorgio Meloni su questo è stata molto chiara se c'è un'assicurazione vogliamo sul tema è un partito nazionale con un'impronta molto chiara su questo io credo invece che le due riforme si tengono perfettamente io sono da siciliano un autonomista perché credo appunto all'autonomia siciliana e sono anche un presidenzialista forse un po' più spinto diciamo della riforma del Premierato che adesso si fa però l'architettura è questa cioè armonizzare una guida politica molto più chiara a governi molto più chiari e rispondenti al mandato popolare e responsabilizzare le classi dirigenti meridionali lo dico da siciliano e non da meridionale perché sono due cose un po' distinte stiamo vedendo quali sono i danni di certe consorterie politiche in Puglia in Campania anche in Sicilia e allora mi pare e allora responsabilizzare è trasversare diciamo è trasversare il problema la soluzione se la domanda la fai a me è responsabilizzare i classi dirigenti è l'unica cosa quando puoi fare coi conti chi ha più responsabilità sui conti nel territorio sarà quello premiato o decollato però dobbiamo guardare quella che è la realtà cioè sulla sanità lo stiamo vedendo quello che succede già c'è una forma di autonomia però responsabilizzare cosa significa lei sta dicendo che già ci sono dei divari quindi dato che ci sono allora li amplifichiamo no no i lab sono al contrario allora li amplifichiamo bisogna garantire compensare questi divari scusate bisogna garantire perché devo dare la linea scuria velocissimo è la realtà quella che conta il divario esiste l'autonomia differenziata serve esattamente a fare il contrario cioè a mettere le regioni comprese forse direi meglio di tutte quelle del sud a essere competitive a essere responsabili prima trovate 100 miliardi di euro guardi non c'è non c'è problema i soldi li troverete ma voi siete sempre catastrofisti non siete riusciti a togliere un euro alle banche che hanno fatto un profitto di 43 miliardi di euro infatti aspettavamo che la facevate voi al governo quando parlavate delle banche e invece il tema non è stato mai neanche c'è stato il programma della Meloni se posso parlare non ci sono problemi sta parlando solo di me io ho finito il mio tempo quindi l'autonomia differenziata sta in questo mi permetta l'ultima cosa non riguarda questa questa rete mi permetta però di fare semplicemente una solidarietà alla mia collega Esther Miedi che in un'altra trasmissione di un'altra rete non neanche si è presentata si è seduta e il giornalista gli ha chiesto lei è ebrea ecco questo è il momento in cui noi ci troviamo anche per tanti altri motivi di carattere internazionale anche prima del 25 aprile sì peraltro già ci sono molte polemiche e non c'è dubbio che sarà una delle notizie del giorno esatto allora Davide buongiorno sì anche io da questo punto di vista sono ebreo ti tolgo come dire la domanda e quindi in realtà non la risolviamo così perché poco fa è intervenuto su questo anche la seconda carica della Stato il presidente Ignazio Larussa noi riprenderemo dalle polemiche che ci sono alla vigilia del 25 aprile dove si continua comunque a discutere anche sul caso Scurati ieri Scurati è tornato a parlare lo ha fatto a Milano lo ascolteremo e poi tutta la grande questione che riguarda il patto di stabilità e questo voto incredibile anzi un'astensione che ha visto insieme sia i partiti della maggioranza sia i partiti dell'opposizione che a Bruxelles con patti hanno detto no a quel patto di stabilità e ne parleremo perché in realtà questo voto ha messo anche un po' in grande imbarazzo il nostro ministro dell'economia Giorgetti e forse anche Giorgia Beloni che comunque quell'accordo buono o brutto che sia in qualche modo l'aveva siglato parleremo poi delle bollette shock con l'antitrust che sanziona con 10 milioni di euro l'Enel e poi avremo ospite Lilli Gruber che ci racconterà della sua nuova inchiesta giornalistica non farti fottere sul mercato del porno e chiuderemo con Marco Minniti con noi in apertura Claudio Cerasa Lidia Ravera Maria Teresa Meri Ligia Rozzulli conosceremo anche una nuova candidata del Partito Democratico all'Europeo Cecilia Strada che vedo già collegata insomma come diresti tu solo posti in piedi overbooking no scusami l'antitrust ha combinato una multa ad Amazon di 10 milioni Enel Enel anche anche Enel quella è un'altra partita sulle bollette sì sì quella è una cosa dell'altro giorno ma oggi c'è la notizia anche che si è data da fare diciamo l'antitrust anche con Amazon tanto per ricordarsi esatto queste iniziative spero che restituiscano a noi quei soldi spero che ritornino a noi questi soldi non è possibile mettiamo la autonomia differenziata no no i soldi li troviamo allora vi ringrazio così sta più tranquillo il collega vi ringrazio per il confronto civile perché poi noi per primi ma anche chi ci ascolta vuole capire le cose il mondo è molto complesso chiudo non è un agguato con Aninno che apparteneva alla comunità del Partito Democratico ha fatto bene l'ishline a togliere il proprio nome dal simbolo del PD sì o no ma guardi le rispondo da imprenditore sì dipende dai numeri cioè se conveniva per avere consensi lo doveva lasciare se era irrilevante ha fatto bene e questo nelle mani dei sondaggisti grazie a tutti vi lascio alla reghetina ci vediamo domani saremo qui 25 aprile grazie